Un'attività di indagine intrapresa l'estate scorsa e che ha messo in luce un traffico già in atto dal 2015 per un giro d'affari quantificato in più di 25.000 euro. Ieri sera il blitz è avvenuto a Garzeno presso l'abitazione di un 39enne originario del posto, M.E. le sue iniziali, e condotto dai carabinieri della compagna di menaggio sotto il comando del maggiore Filippo Bentivogli. L'accusa per l'arrestato è quella di spaccio di stupefacenti, hashish, marijuana ma anche cocaina. Il blitz della scorsa serata si colloca nell'ambito di un'operazione più vasta e, come già detto, con una gestazione lunga quattro anni. Articolato il lavoro degli uomini dell'arma e che ha di fatto coperto una vasta area servita dal pusher lungo il territorio dell'Alto Lago, un meccanismo già rodato in particolare nei paesi di confine delle province di Como, Sondrio e Lecco. A coordinare le indagini il sostituto procuratore dottoressa Maria Vittoria Isella, un'operazione condotta di concerto con la stazione Carabinieri di Dongo. Sono stati loro a comprovare l'attività di illeciti già in atto dal 2015. Nell'appartamento dell'uomo, ora agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, dopo l'emissione di un ordine di custodia cautelare, sono stati rinvenuti un bilancino di precisione e due grammi di hashish. Le indagini continuano e non si escludono nuovi risvolti legati alle operazioni di contrasto allo spaccio di stupefacenti portate avanti dagli uomini dell'arma. Grazie. Grazie.